Negli ultimi giorni, l'ex corteggiatrice di uomini donne, Beatriz Dorsi, è stata al centro di un acceso dibattito sui social media L'argomento? Il suo fisico, Beatriz ha deciso di rispondere con forza agli attacchi ricevuti, lanciando un appello contro il body shaming e il bullismo online Un problema sempre più diffuso. Il body shaming è una piaga che colpisce sempre più persone, soprattutto donne Viviamo in un'epoca in cui gli standard di bellezza sono spesso irrealistici e difficili da raggiungere Ogni giorno, le ragazze si trovano bombardate da immagini di influencer e celebrità che sembrano incarnare la perfezione fisica Dietro queste immagini patinate si nasconde una realtà molto diversa Nessuno è esente dalle critiche. Che si tratti di essere troppo magre o di avere qualche chilo di troppo, i leoni da tastiera trovano sempre qualcosa da criticare In risposta agli attacchi, Beatriz ha deciso di esprimere il proprio sdegno attraverso una serie di storie su Instagram La ex corteggiatrice ha condiviso alcune foto di sé da bambina, sottolineando l'importanza dell'accettazione del corpo Beatriz ha criticato coloro che si sentono autorizzati a commentare il corpo altrui, sostenendo che nessuno dovrebbe imporre a qualcun altro di cambiare il proprio aspetto fisico Non siete nessuno per commentare il corpo altrui, ha dichiarato Beatriz Questo sfogo è nato dopo che alcuni utenti sui social le hanno suggerito di prendere qualche chilo, considerandola troppo magra e un cattivo esempio per le giovani ragazze Beatriz ha lanciato un appello a combattere il bullismo online, sottolineando che solo i medici e gli psicologi hanno il diritto di dare giudizi sul corpo di una persona, poiché solo loro conoscono la realtà dei fatti e i motivi che portano qualcuno a dimagrire o ingrassare Nessuno dovrebbe permettersi di sparare giudizi su sconosciuti, ha ribadito l'ex corteggiatrice, ricordando quanto siano delicati questi temi Beatriz non è la prima celebrità a subire questo tipo di attacchi Prima di lei, anche Chiara Ferragni ha dovuto affrontare per anni critiche sul suo fisico Le stesse persone che la accusavano di essere troppo magra, andavano poi a criticare altre influencer per essere troppo grasse Questo dimostra quanto sia diffuso e insensato il bodyshamming Le parole di Beatriz Dorsi sono un invito alla riflessione per tutti noi Viviamo in un mondo in cui è facile giudicare e criticare Spesso nascondendosi dietro l'anonimato dei social media Tuttavia, è importante ricordare che dietro ogni profilo c'è una persona con i propri sentimenti e la propria storia